Buon pomeriggio, io sono Marco Pazzagli e vi presenterò questo webinar dal titolo Illumina il tuo prodotto con Anzispeos dedicato alla progettazione di sistemi di illuminazione e retroilluminazione appunto con il software Anzispeos. Prima di tutto, che cos'è Anzispeos? Anzispeos è un software di prototipazione virtuale che permette di effettuare simulazioni nell'ambito della simulazione ottica. Questo aspetto ovviamente è sempre più importante poiché l'aspetto di come un prodotto appare è sempre più legato anche a come è stato illuminato. E la complessità anche dei sistemi che stanno dietro appunto all'illuminazione e retroilluminazione di esempio tasti o proiettori o comunque sia tutto ciò che permette di illuminare il proprio prodotto hanno raggiunto appunto una complessità tale che necessitano di strumenti di analisi per esplorare tutte le possibilità e tutti i possibili scenari di sviluppo del prodotto. Questo software ovviamente effettua delle simulazioni physics based quindi utilizza le leggi dell'ottica per andare a definire il percorso dei raggi che partono dalla sorgente e raggiungono il sensore che va appunto a calcolare e a identificare alcune grandezze fisiche tipiche dell'analisi ottica quindi l'illuminamento o la luminanza dell'oggetto del nostro prodotto. E' uno strumento integrato in un ambiente CAD quindi di fatto permette l'importazione e la generazione di geometrie CAD ed è uno strumento orientato all'industria che permette anche di avere a disposizione degli strumenti di post process dedicati che permettono appunto di andare a verificare anche le proprietà a validare di fatto il nostro prodotto secondo quelli che sono i nostri criteri di progettazione. Quindi in un unico ambiente è possibile effettuare la progettazione, l'ottimizzazione e anche la validazione virtuale del prodotto che stiamo sviluppando. Ovviamente i settori di riferimento sono ad esempio quell'automotive, sicuramente per la parte di exterior e interior lighting ma l'aspetto che caratterizza Speros è anche la parte di ADAS e anche la parte dedicata alla realizzazione di ADAP display. Stesse applicazioni possono essere traslate anche in settori più specifici come quello dell'aerospace o la difesa e più in generale anche al lighting sia appunto interno che da esterno. Il vantaggio di un software come Speros è che di fatto questo diventa poi, gli output delle sue simulazioni diventano poi un elemento per prendere delle decisioni sul prodotto che stiamo sviluppando perché l'output della simulazione è appunto come dicevo ottenuto mediante l'applicazione di leggi fisiche quindi a differenza di un render che può essere interpretato e passa sempre da chi lo realizza, quindi da come interpreta la geometria, da come definisce i colori quindi di fatto c'è sempre un aspetto dell'utente che lo va a realizzare e rendere. Mediante la simulazione in Speros uno, questo aspetto viene totalmente saltato perché vengono applicate le leggi fisiche quindi se applicando quel materiale ottengo quel risultato, quel risultato sarà sempre lo stesso e quindi diventa appunto una piattaforma, un elemento su cui poter prendere delle decisioni non viziate dall'uomo, da come viene interpretato il problema. Questo appunto ci permette di avere una rappresentazione vicina a quella che è la realtà, questo grazie a tutta una serie di elementi dalla caratterizzazione dei materiali, delle sorgenti e appunto dall'applicazione delle leggi della fisica e questo ci permette a Speros di essere anche un software certificato dalla CIE proprio perché l'output delle sue simulazioni ha una fedeltà al 99% con le misure quindi sia i risultati della simulazione sono di fatto estremamente fedeli con quelle che poi saranno le misure sul medesimo prodotto. Altra caratteristica di Speros è che essendo parte della famiglia Ansys si interfaccia e può operare e interoperare con gli altri strumenti della famiglia Ansys quindi spostare oltre che analizzare il problema ottico è possibile spostare l'attenzione anche a problematiche inerenti al sistema ottico che però possono ricadere in problematiche termiche o strutturali, quello che ad esempio è possibile fare è andare a costruire un workflow di lavoro che permette di effettuare una progettazione, analisi a livello di Speros, quindi a livello ottico è possibile andare ad includere anche gli effetti termici di deformazione e andare a verificare che il mio sistema risponda come io desidero che cosa può essere fatto in Speros, che tipo di analisi appunto possono essere fatte in Speros è un'analisi ovviamente di tipo fotometrico e colorimetrico ma anche di tipo radiometrico ovvero oltre all'aspetto del visibile possiamo anche analizzare problematiche nell'ultravioletto e nell'infrarosso inoltre all'interno utilizzando Speros è possibile effettuare delle operazioni di ottimizzazione quindi andando a parametrizzare le geometrie è possibile esplorare diversi scenari di progetto quindi andando a variare dei parametri posso mediante un'ottimizzazione andare a raggiungere quel target che mi era posto di obiettivo di illuminanza o di illuminamento altro aspetto che è possibile includere in un'analisi di Speros è la percezione dell'occhio umano ovvero posso andare ad interpretare i risultati ottenuti mediante la simulazione andando ad includere anche tutti i fenomeni di adattamento, di invecchiamento dell'osservatore quindi posso andare ad esempio a studiare il medesimo output di simulazione ma con gli occhi di un ventenne, un sessantenne, un cinquantacinquenne così come le vedete qua nell'immagine andando quindi a capire se al variare dell'età c'è una forte variazione di leggibilità e visibilità ad esempio di quel tasto o di quell'area del prodotto questo è molto importante soprattutto per gli aspetti di sicurezza un altro elemento fondamentale di Speros è la libreria dei materiali una libreria dei materiali estremamente ampia che vengono caratterizzati dalla casa produttrice del software e che quindi può essere anche a richiesta può essere a richiesta aggiunto dei materiali semplicemente chiedendo alla casa produttrice di andare a caratterizzare quel particolare materiale che io sto utilizzando e che voglio includere nella mia simulazione altri elementi estremamente interessanti che caratterizzano Speros sono ad esempio l'optical sensor test ovvero come dicevo per la parte ADAS è possibile andare ad includere anche analisi che coinvolgono telecamere o l'IDAR e quindi andare a studiare il posizionamento di questi elementi per scegliere la posizione migliore per ottenere l'immagine che io desidero e così via esiste anche l'optical part design è una funzionalità che permette di andare a generare superfici complesse soprattutto in ambito automotive siano geometrie sempre più complesse da guida luce a lenti a nido d'ape che di fatto sono geometrie complesse da realizzare a livello CAD e quindi necessitano di un effort piuttosto importante per chi non è un esperto di CAD nel realizzare queste geometrie mentre mediante Speros possono essere realizzate in maniera automatica altra funzionalità verticale è quella legata alla progettazione di DAP Display in cui Speros fornisce anche un post-process dedicato per la valutazione delle prestazioni del sistema e come dicevo è possibile andare anche a effettuare analisi fuori dallo spettro irrepresibile fino all'infraverso lontano passiamo adesso a quella che è l'interfaccia del software come vedete questo è Speros integrato nell'interfaccia di Space Claim che di fatto è il modellatore geometrico CAD in cui Speros opera come vedete è un modellatore geometrico completo nel quale però sono aggiunte tutta una serie di funzionalità legate alla simulazione ottica ora prendiamo ad esempio un file step di guida luce quello che vedevamo poco fa e vediamo quali sono gli step per andare a realizzare una simulazione all'interno di Speros il primo passo è quello di andare a segnare i materiali che possono essere assegnati in varie maniere sia editati, cioè create all'interno di Speros quindi assegnando delle proprietà direttamente nell'interfaccia oppure andando a pescare appunto la libreria ad esempio adesso assegniamo le proprietà all'housing del LED definiamo la proprietà del guida luce quindi in PMMA ad esempio in questo caso non utilizziamo un'informazione di libreria ma definiamo dei parametri il materiale semplicemente dall'interfaccia di Speros quindi una caratterizzazione più semplificata del materiale per comodità nascondiamo le geometrie e andiamo a definire il materiale relativo ai tasti quindi utilizziamo ad esempio un materiale tipo diffusivo diffusivo per i tasti per l'elemento per il corpo del tasto assegniamo delle proprietà superficiali come finitura superficiale delle superfici della parte posteriore selezioniamo le varie geometrie ok Grazie. Ad assegnare le proprietà alla cover, quindi all'enclosure, abbiamo una sottosezione dell'oggetto completo, assegniamo delle proprietà da libreria, anche in questo caso. E definiamo anche un materiale per le superfici esterne del tasto, che va a coprire il materiale di fondente sul quale poi sono realizzati i vari loghi da retroilluminare. Selezioniamo tutte le superfici. Anche in questo caso è necessario semplicemente un pochissima dimestichezza nell'utilizzo delle funzionalità, è estremamente semplice andare a selezionare e assegnare le proprietà, come avete visto, sono operazioni decisamente rapide. Assegnate le proprietà dei materiali, possiamo andare a definire un sensore, ad esempio possiamo decidere di inserire un sensore di radianza, decidiamo dove piazzarlo, scegliamo ad esempio di porlo centrato rispetto al tasto centrale e posto a una distanza di 20 mm. Generato il sistema di riferimento nel punto in cui voglio definire il mio sensore, vado a selezionare la tipologia, quindi fotometrico, colorimetrico, in questo caso utilizziamo un sensore di tipo colorimetrico. Definiamo le due direzioni, orientiamo correttamente il sensore in modo che sia orientato verso le superfici di uscita dei nostri tasti. Definiamo la risoluzione e le dimensioni. Fatto questo abbiamo definito la tipologia di sensore che, come vedete, inquadra l'area desiderata. A questo punto, già prima di realizzare il setup della simulazione, dobbiamo ovviamente aggiungere anche la sorgente all'interno del nostro sistema, quindi vado a, nascondiamo per un attimo il guidaluce, vado ad assegnare alla superficie di emissione del LED delle proprietà e le vado a prendere dalla libreria e quindi la specifica caratterizzazione al livello di emissione spettrale del LED. Qui, come potete vedere, c'è una preview dei raggi in uscita dal nostro LED, quindi serve per capire anche se l'assegnazione è stata fatta correttamente e quindi è orientata la nostra superficie nel modo corretto. A questo punto è possibile andare a definire il nostro setup di simulazione, quindi selezionando tutte le geometrie da includere nell'analisi. La sorgente in questo caso, ma anche più sorgenti, possono essere selezionate e incluse nella medesima analisi. Stessa cosa per i sensori. A questo punto è possibile effettuare l'analisi lanciando l'analisi, quindi ovviamente i tempi di calcolo sono funzioni, ad esempio, del numero di raggi e anche la precisione dell'analisi è funzione del numero dei raggi utilizzati. Adesso andiamo a vedere un attimo dei risultati sul medesimo caso già simulato. Prendiamo ad esempio l'auto della simulazione di sensore di radianza analogo a quello implementato nel precedente caso. Come potete vedere, questo è il lato della simulazione, quindi è ciò che a livello colorimetrico ottengo dal setup che io ho definito. Oltre a queste funzionalità di simulazione è possibile, come dicevo, inserire anche la possibilità di misure, di effettuare delle misure, quindi andando a definire un'area o un percorso, posso andare a ricercare su quest'area o percorsi o linee delle varie grandezze, che può essere il massimo, il minimo, il valore medio, il valore quadratico medio, ad esempio della luminanza del mio oggetto. Ovviamente, come dicevo, è possibile andare a costruire anche geometrie direttamente all'interfaccia. Questa, ad esempio, possiamo considerarla come una pelle fornita, ad esempio, da un designer di un portabottiglia, ad esempio, da utilizzare in ambito automotive, in cui voglio andare a inserire un guida luce per illuminare quell'area. Come devo fare? Selezionando il guida luce, selezionando il path desiderato sul quale farlo sviluppare, la superficie da estrudere che costituirà il guida luce stesso, la superficie di riferimento sul quale farlo sviluppare il guida luce e la direzione verso cui direzionare i prismi del guida luce, in cui, appunto, come vedete, abbiamo le frecce che ci indicano il path e la direzione in cui saranno orientati i guida luce stessi e i prismi del guida luce. Ci sono tutta una serie di parametri legati, appunto, alle caratteristiche del guida luce, cioè punto di partenza, punto di arrivo, quindi a che distanza iniziare a realizzare i prismi e quando terminarli, rispetto alla fine, il passo con cui realizzarli. Possono essere definiti anche la lunghezza o l'offset con il quale vengono, diciamo, realizzati i guida luce lungo il percorso, quindi, ad esempio, in questo caso inseriamo due control point che gestiscono, appunto, la profondità del prisma, la loro larghezza, l'angolo iniziale e finale del guida luce, del prisma, e, a questo punto è possibile, premendo il tasto compute, di realizzare e andare a realizzare automaticamente questa geometria, che ovviamente è una geometria complessa, estremamente difficile da costruire a livello di CAD, anche per i CADisti più esperti diventa un'operazione non semplice andare a automatizzare questa generazione di superfici e geometria in generale. La medesima procedura può essere adattata, utilizzabile per tutta quella serie di elementi che trovate nell'Optical Part Designer in alto a destra, quindi superfici paraboliche, riflettori di varia natura, e tutte quelle lenti, appunto, come dicevo, tipo, ad esempio, quelle a nido d'ape. Inoltre, questi parametri che definiscono la geometria che sto costruendo sono appunto dei parametri a cui posso assegnare una variabile da utilizzare all'interno di un ottimizzatore oppure all'interno di un DOI e quindi andare ad esplorare in maniera semplice, più possibilità, e andare poi a scegliere quella che mi fornisce delle prestazioni migliori in termini di, appunto, illuminanza o illuminamento e ottenute, cioè valori che ottengo e che analizzo mediante gli strumenti cross-process e di misura che Speros mette a disposizione. Come vedete, la generazione è quasi terminata. Operazione che comunque sia in pochi passi, in pochi istanti, viene completata, operazione che altrimenti non è sostanzialmente possibile fare in maniera autonoma da utente su un CAD se non impiegando davvero davvero molto tempo perché la complessità di queste geometrie è molto elevata. Qualche altro istante. come dicevo, oltre a questo tipo di generazione automatismi è possibile sfruttare tutti gli altri strumenti di generazione Space Claim per preditare le geometrie importate o create. Questo, come vedete, è il guidaluce e il guidaluce è costruito in maniera automatica dal software in cui sono presenti tutti i prismi così come definiti all'interno del setup per la creazione di questo elemento. Andiamo a vedere ad esempio un caso analogo di un guidaluce però inserito in un contesto un pochino più ampio. Come vedete anche in questo caso ci sono le superfici che servono per la la pelle e le superfici che servono per la creazione del guidaluce che mi permettono appunto di identificare il percorso e la direzione lungo la quale andare a sviluppare il guidaluce e dove porre la mia sorgente di illuminazione. in questo caso sono stati costruiti una serie di guidaluce a variare dei vari parametri questo esempio il guidaluce realizzato con i suoi prismi definiti dall'utente e tutto il sistema fa parte di una portiera di un'auto e quindi di fatto questo diventa il sistema di illuminazione interno dell'auto che di fatto sono diventati un must di molti veicoli ma di molte auto e questa generazione della superficie è venuta in maniera automatica con le stesse modalità che abbiamo visto poco fa ora andiamo a vedere un risultato in questo caso sono state assegnate tutta una serie di materiali una serie di sorgenti e un discreto numero di sensori andiamo a vedere l'output di un sensore di radianza orientato rispetto al guidatore che inquadra la mia portiera questo come vedete è l'output della simulazione e ci dà un'idea di come apparirà il nostro prodotto integrato all'interno della portiera ovviamente non è un render come ho detto poco fa questo non è un render è una simulazione vera e propria è una simulazione physics based quindi sulla base di questa posso andare a vedere se con quel led con quella struttura che ho generato vado a raggiungere su quelle superfici un certo un certo valore di di candela al metro quadro di di lux o se da quell'ed da quelle guida luce ottengo quei certi valori di candela al metro quadro questo è un questo era un esempio ora se avete delle domande su su quanto avete visto volete approfondire appunto alcune questioni sono a disposizione grazie a tutti grazie a tutti